La preghiera E ha esortato alla preghiera e ha evidenziato quattro aspetti importanti che riguardano la preghiera, la perseveranza, Colossesi 4.2, la perseveranza nella preghiera, ha esortato a vegliare in essa, ha poi anche esortato a ringraziare Dio attraverso la preghiera, quindi ringraziamento attraverso la preghiera, e poi ha anche esortato all'intercessione, all'intercessione. Quattro aspetti importanti che riguardano la preghiera, l'intercessione in particolar modo, in quel versetto 3 e 4, evidenziando la necessità di pregare affinché Dio apra la porta, perché lui potesse predicare il Vangelo, quindi una preghiera che aveva uno scopo evangelistico. Ma c'è un'altra preghiera importante fondamentale di cui l'Apostolo Paolo parla, ed è quella preghiera focalizzata sulla salvezza dei perduti. Questa sera parleremo della preghiera per i perduti, la preghiera per i perduti, specificamente per la salvezza dei perduti, e ci focalizzeremo su questo attraverso un brano, un brano importante, sette versetti. In Prima Timotio, Prima lettera a Timotio, Prima lettera a Timotio al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 7, dal versetto 1 al versetto 7 che vorrei leggere. L'Apostolo Paolo scrive Questa è la testimonianza resa a suo tempo, ed è la quale io fui costituito predicatore apostolo. Io dico il vero, non mento, per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Sette versetti questa sera, versetti come detto importanti perché si focalizzano sulla preghiera. Pregare per i perduti, pregare per la salvezza dei non credenti. Questa lettera scritta dall'Apostolo Paolo, l'autore di questa lettera, che scrive proprio subito dopo la sua liberazione dalla prigionia a Roma, Atti 28, Paolo è in prigione per ben due anni, e scrive dopo questa prigionia questa lettera a Timotio, scriverà anche una lettera poi a Tito, e poi una seconda lettera a Timotio, dalla sua prigione a Roma, dove poi morirà come martire. Ora, queste tre lettere, la prima, la seconda lettera a Timotio e la lettera a Tito, sono lettere definite pastorali, lettere pastorali, ovvero scritte due uomini, Timotio e Tito, che avevano un compito pastorale. Timotio era ad Efeso, in questa chiesa ad Efeso, Tito era a Creta. Sono lettere che avevano uno scopo che è questo, di istruire la chiesa. Ci sono istruzioni fondamentali per quanto riguarda la chiesa. Infatti, la prima lettera a Timotio, se andiamo al capitolo 3, versetto 14-15, questo è quello che scrive Paolo. Ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Lo scopo di questa lettera, come potete vedere, è questo, istruire la chiesa a Timotio e attraverso Timotio la chiesa ad Efeso, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, la chiesa. Una lettera scritta per istruire sul come comportarsi nella chiesa. Questo è lo scopo. Quindi, una lettera con diverse istruzioni specifiche e fondamentali che riguardano la chiesa, e una di queste istruzioni riguarda proprio la preghiera. specificamente la preghiera per i perduti, la preghiera per la salvezza dei non credenti. Come notate nel versetto 1, Paolo dice esorto dunque prima di ogni altra cosa. E ciò di cui parleremo questa sera è la priorità, un aspetto prioritario per i credenti. Vedremo due cose in questi versetti. I primi due versetti vedremo la priorità di pregare per tutti gli uomini. Nei primi due versetti la priorità di pregare per tutti gli uomini. E poi, dal versetto 3 al versetto 7, le ragioni, le ragioni per cui pregare per tutti gli uomini. Prima cosa, la priorità di pregare per tutti gli uomini, e poi le ragioni per cui pregare per tutti gli uomini. La preghiera per i perduti. Questa è la priorità per la chiesa. Questa è la priorità per noi come credenti. Iniziamo con i primi due versetti. La priorità di pregare per tutti gli uomini. Paolo inizia dicendo, dunque, esorto prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Qui dice dunque. Quello che sta dicendo è alla luce di quanto ha detto in precedenza. E si lega a ciò che ha detto in precedenza. Se andiamo al versetto 18 del capitolo 1, e dice Paolo, ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo. Perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Qui parla di un incarico. Quale incarico? In questo capitolo, al versetto 3, fino al versetto 5, questo è quello che leggiamo, Ti ripeto, l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Qui parla di un incarico. E l'incarico di Timoteo era proprio questo, di contrastare i falsi insegnanti nella chiesa ad Efeso. Il suo compito era contrastare, mettere a tacere i falsi insegnanti. E parla qui di favole, storie inventate da parte di questi falsi insegnanti. Favole inventate legate proprio alla genealogia dell'Antico Testamento, forse usavano interpretazioni allegoriche e si inventavano delle favole, delle storie inventate. Non solo, parlando di questi falsi insegnanti, dice, versetto 7, vogliono essere dottori della legge. Insegnanti della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Volevano presentarsi come insegnanti della legge. Ma, dal versetto 8, ascoltate quello che dice Paolo riguardo a questi falsi insegnanti. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. E' legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i stati leghi e gli religiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri. E' per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del Beato Dio, che Egli mi ha affidato. Ovvero, questi falsi insegnanti usavano la legge in modo errato. Usavano la legge in modo errato. Qui dice, sappiamo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli. Usavano la legge per i credenti, per i giusti. C'era una sorta di legalismo. Non sappiamo con esattezza chi erano questi falsi insegnanti. Probabilmente dei giudei legalisti, che usavano la legge per i credenti, come mezzo anche per la salvezza. Forse falsi insegnanti che avevano un pensiero greco, quello che poi si conoscerà come gnosticismo, i quali dicevano che il bene corrispondeva all'ospito e il male alla materia, al corpo. Quindi una visione distorta riguardo alla condizione dell'uomo e che andava in contrasto con la sana dottrina, con il Vangelo. Questi falsi insegnanti stavano attaccando il Vangelo di Cristo. Il Vangelo di Cristo. E infatti l'Apostolo Paolo, dal versetto 12 fino poi al versetto 17, qui ricorda ciò che Dio ha compiuto per salvare lui. E qui dice, Certo è questa affermazione. L'Apostolo Paolo ricorda la sua salvazione. Il modo in cui Dio ha agito nella sua misericordia e grazia. Questo perché c'erano questi falsi insegnanti che contrastavano questo Vangelo, il Vangelo di Cristo. E Paolo ricorda come Dio lo ha salvato, ha avuto misericordia di lui per essendo un violento, un bestimiatore, un persecutore. Paolo quindi affida questo incarico importante a Timotio per contrastare i falsi insegnanti i quali stavano attaccando il Vangelo di Cristo. E ricorda che Dio è misericordioso e che Dio ha salvato un peccatore come lui. Ricorda il modo in cui Dio lo ha salvato. Ma al capitolo 2, al versetto 1, è qui che inizia con questa prima esortazione, primo insegnamento, la prima istruzione, che riguarda la preghiera. Che riguarda la preghiera. E questa preghiera per i perduti che è strettamente legata a quella che è l'essenza del Vangelo. Questo è importante. Questo suo insegnamento che riguarda la preghiera per i perduti è strettamente legata all'essenza del Vangelo, come ha già introdotto. Alla luce del fatto che c'erano questi insegnanti, falsi insegnanti, che contrastavano il Vangelo. Ora esorta alla preghiera per i perduti, alla luce del Vangelo, della grazia di Dio. E quello che fa è questo, dal versetto 1. Dice esorto, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Prima di ogni altra cosa. Fratelli e sorelle, qui c'è una priorità per la Chiesa. Una priorità. La preghiera. La preghiera. Specificamente per i perduti. Qui elenca alcune cose che riguardano la preghiera. Parla di suppliche. Suppliche, un termine che si riferisce proprio alla petizione, alla luce di una necessità. La consapevolezza di una necessità che porta alla petizione, a supplicare. Non solo parla di preghiera, un termine generico che si riferisce a questa comunione con Dio, alla riverenza verso Dio. Poi parla di intercessioni, intercede per qualcosa o qualcuno e poi aggiunge ringraziamenti. Qui specifica l'ospito con cui pregare, con ringraziamento, con sottomissione, con gratitudine. Questo, d'altronde, è quello che Paolo fa diverse volte. Quando esorta la preghiera in Prima Tessalonicesi 5.18, o Colossesi 4.2, o Filippesi 4.6, esorta la preghiera con ringraziamento. Questa preghiera che è accompagnata da ringraziamento. Ma qui dice, esorto, che si facciano. Qui parla di qualcosa di costante. Questo è ciò che caratterizza costantemente la Chiesa. La preghiera per i perduti. Non è un evento, non è un giorno in cui dedichiamo questa preghiera come Chiesa, ma è una costante preghiera che riguarda i perduti. Ora, specificamente, pregare per chi? Perché qui è interessante quello che Paolo afferma. Per chi pregare? Qui dice, per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini. Qui c'è lo scopo, l'oggetto della preghiera. Per tutti gli uomini. Questo è lo scopo di questa preghiera. Una preghiera che ha uno scopo universale. Per tutti gli uomini. Questo termine, tutti, che utilizza diverse volte in pochi versetti, se notate. Al versetto 1, per tutti gli uomini. Al versetto 2 dirà, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità. Al versetto 4 dice, il quale Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E poi al versetto 6, parlando di Cristo, dice che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Dio, diverse volte, in pochi versetti, parla di questi tutti, ovvero tutti gli uomini. Quando esorta a pregare per tutti gli uomini, sta esortando a pregare per ogni individuo sulla faccia della terra? La risposta è no. È impossibile pregare per ogni individuo sulla faccia della terra? Qui sta esortando a pregare per tutti gli uomini, in questo senso, per tutti senza distinzione. D'altronde ha già affermato al versetto 15 del capitolo 1, parlando della sua salvezza, Paolo, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non un certo tipo di peccatori, per i peccatori, il mondo, chiunque, senza distinzione. Infatti aggiunge al versetto 2, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, anche per il re. E quel tempo il re era Nerone. Nerone. E per tutti quelli, dice, che sono costituiti in autorità, per tutti coloro che sono in autorità. Paolo, attraverso questa esortazione, sta estruendo i credenti e sta correggendo la Chiesa, perché c'era probabilmente la tendenza di escludere qualcuno da questa preghiera. Pregare sì, ma per chi? Forse escludere Nerone per la sua crudeltà, per la sua malvagità, o l'ingiustizia da parte dell'autorità. Qui esorta pregare per tutti indistintamente. Non escludete nessuno da questa preghiera. Questa preghiera che vedremo è per la salvezza. Pregare quindi senza escludere nessuno. C'era forse la tendenza, con molta probabilità, di fare qualche distinzione. Questo è quello che potremmo fare noi. E pregare per qualcuno, ma forse non per qualcuno che è ingiusto e crudele. Ma qui esorta pregare per tutti gli uomini. Senza distinzione. Infatti Paolo ha affermato che la grazia di Dio è sovrabbandata. D'altronde, Paolo era un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Lui ha perseguitato la Chiesa. E Dio ha salvato lui. Pregate per tutti, senza distinzione. Forse c'era l'influenza dei falsi insegnanti, che avevano questo atteggiamento esclusivista, separatista. Pregare solo per alcuni, ma non per tutti. Paolo afferma, pregate per tutti gli uomini, indistintamente. Questo è lo scopo della preghiera della Chiesa. Una preghiera evangelistica. Senza fare distinzione tra le persone. E aggiunge, e aggiunge il risultato di questa preghiera, se Dio vuole, dice, per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché, dice, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Qui c'è il risultato di questa preghiera, per i re, per tutti quelli che sono costituiti in autorità, dice affinché possiamo vivere una vita tranquilla e quieta. Non è facile questa frase, comprenderla. Infatti potrebbe riferirsi a un atteggiamento pacifico da parte dei credenti nei confronti dell'autorità, o più probabilmente, se consideriamo il contesto e il legame che c'è tra questa frase e quella precedente, ovvero di pregare per i re e per quelli che sono costituiti in autorità, comprendiamo che qui si riferisce alla preghiera affinché, se Dio vuole, ci sia una certa libertà religiosa, la libertà di poter vivere come Chiesa senza che ci sia opposizione, senza che ci sia persecuzione da parte dell'autorità. Pregare per l'autorità, per la loro salvezza, affinché ci sia la possibilità, per la Chiesa, così come noi oggi stiamo beneficiando di poter essere liberi di vivere la nostra vita come cristiani, come Chiesa. Ora, non per motivi egoistici, Nel contesto capiamo per quale ragione questa vita tranquilla e quieta per proclamare il Vangelo, perché poi aggiunge in tutta pietà e dignità. Pregare, quindi, specificamente per i re e per quelli che sono in autorità, affinché ci sia una vita tranquilla e quieta, ovvero non opposizione, affinché ci sia la possibilità dei credenti di testimoniare di Cristo, di evangelizzare e fare come ciò in tutta pietà e dignità, vivere quindi liberamente in tutta pietà e dignità. Questo termine pietà che usa diverse volte in questa lettera all'Apostolo Paolo si riferisce proprio alla devozione a Dio, al Signore, al timore di Dio che porta poi alla santità, a un cammino nella santità, e il termine dignità si riferisce a un comportamento dignitoso, rispettoso, verso tutti gli uomini. Un atteggiamento rispettoso, lo stesso termine che troviamo al capitolo 3, versetto 4, rispettosi, pienamente rispettosi. Qui sta dicendo preghiamo affinché, pregata affinché ci sia questa vita tranquilla, quieta, che non ci sia opposizione, ma ci sia la possibilità di vivere in tutta pietà, devoti al Signore, consacrate a Lui, con una condotta evangelistica, una preghiera quindi evangelistica, ma anche una condotta evangelistica, per testimoniare del Vangelo. Lo scopo non è vivere tranquilli e sereni a casa nostra, ma è proclamare il Vangelo attraverso quella libertà che ci viene concessa. Quindi una preghiera evangelistica per tutti gli uomini è una condotta evangelistica in tutta pietà e degnità. Paolo quindi inizia in questi versetti evidenziando la priorità, la priorità di pregare per tutti gli uomini, per tutti indistintamente, senza escludere nessuno. Purtroppo questo è quello che stava accadendo e Paolo deve correggere qualsiasi forma di esclusione, escludere qualcuno. Questo atteggiamento che poteva forse essere il frutto dei falsi insegnanti, non sappiamo, ma sappiamo che qui esorta pregare per tutti gli uomini indistintamente, senza fare nessuna distinzione. Sapete, questo può accadere nella nostra vita. Di fare qualche distinzione, se c'è ingiustizia per esempio, nell'autorità, pregare per l'autorità, infatti preghiamo per l'autorità, e questo è quello che ci caratterizza, o c'è quasi una forma di fastidio. Paolo corregge questo atteggiamento. Paolo sta esortando noi a pregare per tutti indistintamente. Qui prega, chiedi di pregare, esorta pregare per il re. Il re era Nerone. Sì, anche Nerone, con la sua malvagità pregate per lui. D'altronde, chi era Paolo? Un persecutore, a cui Dio ha fatto misi ricordi. La priorità, quindi, della Chiesa, di pregare per tutti gli uomini indistintamente, indistintamente. Passiamo ora al secondo aspetto, dal versetto 3 al versetto 7, le ragioni per cui pregare per tutti gli uomini. Perché pregare per tutti gli uomini? Perché non escludere nessuno? Perché? In questi versetti comprendiamo la ragione per cui pregare per tutti gli uomini e capiamo attraverso questi versetti che questa preghiera riguarda la salvezza dei perduti. Pregare per la salvezza dei perduti. Questa è la priorità per noi credenti. Tre ragioni, vedremo, in questi versetti, tre ragioni per cui pregare per tutti gli uomini senza fare distinzioni. Senza fare distinzioni tra i perduti. Prima ragione, dal versetto 3 al versetto 4. Questa è la prima ragione. Dio desidera la salvezza di tutti gli uomini. Dio desidera la salvezza di tutti gli uomini. Perché pregare per tutti gli uomini? Perché Dio desidera la salvezza di tutti gli uomini. Quella preghiera per tutti gli uomini è coerente con quello che Dio desidera. Al versetto 3 Paolo inizia dicendo questo è buono, ovvero questa preghiera è buona, è buono questo, l'atteggiamento di pregare per tutti gli uomini indistintamente, questo è buono e gradito davanti a Dio, il nostro Salvatore. Questo è buono, dice, questo è eccellente, è una cosa buona, è eccellente pregare per tutti gli uomini indistintamente e poi aggiunge non solo è buono ma è gradito, è ciò che Dio gradisce. Perché pregare per tutti indistintamente? Perché questo è ciò che Dio gradisce, questo è buono, ma ci spiega la ragione nel versetto 4. perché è buono? Perché ciò che Dio gradisce, versetto 4, il quale, ovvero Dio, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. E vengono alla conoscenza della verità. Ecco, la priorità della preghiera è per tutti gli uomini. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati. Ora, due chiarimenti importanti qui per quanto riguarda questa frase mal interpretata purtroppo dai credenti. Dio vuole, desidera che tutti gli uomini siano salvati. Il primo chiarimento e su questo non posso troppo soffermarmi, ne potremo parlare in futuro o in seguito. nella scrittura quando si parla della volontà di Dio in base al contesto ci sono dei significati diversi. Quando si parla della volontà di Dio la volontà di Dio viene descritta in vari brani in modo diverso. Per esempio c'è la volontà decretativa decretativa ovvero ciò che Dio ha decretato e che si adempierà. Per esempio Dio ha decretato la crocifissione di Cristo questo era il suo piano e nessuno poteva impedire ciò nessuno questa volontà decretativa c'è poi un'altra volontà che è la volontà precettiva ovvero i comandamenti Dio ordina comanda gli uomini di ubbidire i suoi comandamenti ma l'uomo può trasgredirli questi comandamenti anche se Dio vuole che loro ubbidiscono l'uomo può trasgredirli non può contrastare la volontà decretativa ma può contrastare la volontà precettiva ovvero quando hanno crocifisso Cristo hanno peccato hanno peccato hanno ucciso hanno fatto crocifiggere Gesù Cristo i giudei hanno peccato ma hanno adempiuto la volontà decretativa di Dio diversi aspetti quindi della volontà di Dio e poi c'è un altro aspetto della volontà di Dio che si riferisce a ciò che a cui fa piacere a Dio qualcosa per esempio voglio mostrarvi questa volontà che si riferisce alla sua disposizione in Ezechiele per esempio in Ezechiele capitolo 18 versetto 23 18 23 questa volontà ciò in cui Dio prende piacere ciò in cui Dio prende piacere dice io provo forse piacere se l'empio muore dice Dio Signore non ne provo piuttosto quando Egli si converte dalle sue vie e vive versetto 32 io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore dice Dio Signore convertitevi dunque e vivete anche al capitolo 33 capitolo 33 versetto 11 33 versetto 11 quando dice come è vero che io vivo dice Dio il Signore io non mi compiaccio della morte dell'empio ma che l'empio si converta dalla sua via e viva quindi questa volontà che si definisce a ciò che lui prende piacere in cosa prende piacere Dio prende piacere nella morte degli empi no ma nella loro conversione Dio piace che loro si convertano non che muoiano ora sappiamo però che nella sua volontà sovrana ci sarà un giudizio per i non credenti e questo Romani 9 porterà gloria a Dio perché attraverso quel giudizio degli empi dei ribelli la sua gloria verrà manifestata ovvero la sua giustizia la sua potenza questo per mostrarvi brevemente che ci sono diversi aspetti della volontà di Dio diversi aspetti ciò in cui prendi piacere Dio la sua volontà decretativa e la sua volontà percettiva primo chiarimento importante quindi in questo versetto non sta dicendo Paolo che Dio ha decretato che tutti siamo salvati perché altrimenti la salvezza per tutti non c'è perdizione e questo contraddice il resto della scrittura non è questo quello che Paolo sta dicendo non sta dicendo che la salvezza è universale non è la sua volontà decretativa in questo versetto secondo chiarimento questo è quello che comprendiamo chiarimento importante secondo ed è questo Paolo Paolo qui sta affermando qualcosa che è strettamente legato a ciò che ha detto in precedenza ha esortato d'altronde a pregare per tutti gli uomini abbiamo capito che non esorta pregare per ogni individuo è impossibile ma per tutti indistintamente allo stesso modo quando dice che Dio vuole che tutti siano salvati sta dicendo che Dio vuole che tutti siano salvati ovvero tutti gli uomini indistintamente senza distinzione senza distinzione Dio desidera che tutti gli uomini senza distinzione di razza di lingua o in base ai peccati commessi giungono a salvezza Cristo vedremo è il prezzo di riscatto per tutti indistintamente Paolo è l'apostolo degli stranieri non escludere nessuno anche gli stranieri anche a loro il Vangelo è stato predicato qui si sta riferendo Paolo quindi a quella che è l'universalità del Vangelo l'universalità del Vangelo il Vangelo è destinato a tutti gli uomini indistintamente va proclamato a tutti Dio desidera la salvezza di tutti indistintamente Dio non fa una distinzione in base a quali peccati commettiamo commette l'uomo infatti come Gesù disse l'ultimo sarà il primo e il primo l'ultimo siamo noi che facciamo distinzioni fratelli e sorelle siamo noi che salveremmo forse qualcuno che dice solo bugie ma non un omicida ma Dio non agisce così la sua grazia è una grazia sovrabbondante d'altronde ha salvato un bestemiatore un persecutore un violento Dio non fa distinzione Dio desidera la salvezza di tutti senza distinzione ecco quindi perché la preghiera per tutti gli uomini senza escludere Nerone perché Dio non esclude qualcuno a priori a motivo dei suoi peccati ora quello che Paolo dice in questo versetto è molto simile a quello che disse Pietro d'altronde in Atti in Atti molto velocemente in Atti capitolo 10 se ricordate questa visione che ebbe Pietro questa tovaglia con questo cibo Pietro non vuole mangiare perché sono cose impure ma Dio risponde le cose che Dio ha purificate non farle tu impure non farle tu impure dopodiché andrà da Cornelio gentile andrà a predicare andrà a predicare l'Evangelo a Cornelio e al versetto 34 questo è quello che dice Pietro allora Pietro cominciando a parlare disse in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo egli è il Signore di tutti cosa vuol dire tutti gli esseri viventi tutti quanti gli uomini che sono esistiti no Dio non ha riguardi personali Dio non ha riguardi personali tutti quindi indistintamente tutti indistintamente anche in atti 15 non abbiamo il tempo di leggere ma anche in questo brano vediamo che questo è quello che accade i giudei legalisti che affermano che per essere salvati bisogna circoncidere i giudei osservare la legge di Mosè a versetto 5 e gli apostoli metteranno in luce che non è così che si giunge a salvezza ma la salvezza è anche per i gentili cosa che aveva sorpreso e stupito i giudei il Vangelo quindi è offerto a tutti il Vangelo è universale offerto a tutti ed ecco perché pergare per tutti indistintamente se ricordate Paolo quando scrive ai Romani guardate quello che dice fin dall'inizio del capitolo 1 versetto 16 infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima e poi del greco non c'è distinzione il Vangelo è per tutti sta quindi esortando a pregare per tutti indistintamente senza escludere nessuno perché il Vangelo è per tutti qui Paolo non sta quindi contradicendo se stesso quando ha affermato che Dio è sovrano nella salvezza non sta contradicendo ciò sta evidenziando che Dio prende piacere nella salvezza di tutti indistintamente giudei gentili i re coloro che sono in autorità tutti ed ecco perché pregare per tutti come Gesù disse gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi e noi non ragioniamo in questo modo ma Dio salva nella sua grazia sovrabbondante anche un persecutore della Chiesa Paolo violento e bestemmiatore pregare per tutti gli uomini indistintamente perché la grazia di Dio è sovrabbondante questo è quello che ha affermato nei versetti precedenti Dio desidera la salvezza di tutti gli uomini indistintamente non fa nessuna distinzione e poi giunge e vengano alla conoscenza della verità questa frase che si riferisce alla salvezza alla salvezza questa frase che usa diverse volte e giungano alla conoscenza della verità ovvero alla conoscenza del Vangelo Dio desidera che il Vangelo venga proclamato a tutti a tutti ecco quindi la prima ragione per cui pregare per tutti gli uomini indistintamente questa è la prima ragione Dio desidera la salvezza di tutti indistintamente seconda ragione la seconda ragione dal versetto 5 al versetto 6 la morte di Cristo è per tutti gli uomini la morte di Cristo è per tutti Paolo qui presenta alcuni aspetti dottrinali importanti perché al versetto 5 inizia dicendo infatti dopo aver detto che Dio desidera che tutti gli uomini siano salvati aggiunge infatti infatti perché infatti dice c'è un solo Dio c'è un solo Dio ecco perché pregare per tutti gli uomini ecco perché il Vangelo è per tutti perché c'è un solo Dio ovvero c'è un solo modo per giungere alla salvezza mediante l'opera di Cristo Gesù mediante ciò che Dio ha compiuto in Cristo Gesù pregare per tutti gli uomini perché il Vangelo è per tutti infatti c'è un solo Dio l'unico modo per giungere a salvezza per tutta l'umanità è grazie al Vangelo di Dio c'è un solo Dio in Romani 3 anche qui in Romani capitolo 3 in modo simile guardate quello che Paolo dice Romani 3 29 e 30 Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei non è egli anche il Dio degli altri popoli certo e anche il Dio degli altri popoli poiché c'è un solo Dio un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede c'è un solo Dio un solo Dio e un solo mediatore Cristo Gesù uomo Gesù Cristo Dio incarnato Dio uomo c'è un solo mediatore non ci sono diverse vie per giungere la salvezza l'unico modo è per mezzo di Gesù Cristo l'unico modo è per mezzo di Gesù Cristo in atti 4.12 a 4.12 quando leggiamo e nessun altro è salvezza e la salvezza è perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati ecco perché pregare per tutti gli uomini perché c'è un solo Dio c'è un solo mediatore e aggiunge Gesù Cristo uomo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti c'è un solo sacrificio qui parla di Cristo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti lui è il sacrificio sostitutivo sostitutivo per la salvezza qua parla di prezzo di riscatto un prezzo pagato mediante il suo sangue per riscattare per salvare la salvezza è possibile grazie a questo riscatto c'è un solo modo per aggiungere la salvezza per tutti gli uomini mediante questo prezzo di riscatto mediante il sacrificio di Cristo Gesù il prezzo pagato per il nostro riscatto qui ancora una volta dice per tutti sta dicendo che Cristo è il prezzo di riscatto per tutti ovvero per ogni essere umano esistito sulla faccia della terra è Gesù Cristo il prezzo di riscatto per tutti gli uomini ovvero ogni individuo sulla faccia della terra che è esistito la risposta è no abbiamo già visto che esorta pregare per tutti nel senso tutti indistintamente abbiamo visto che lo scopo di pregare per tutti è perché Dio desidera la salvezza di tutti indistintamente e ora c'è un'altra ragione perché Cristo è il prezzo di riscatto per tutti ovvero tutti indistintamente Paolo non sta dicendo che Cristo è il sacrificio propiziatorio per tutti per ogni individuo perché altrimenti tutti sarebbero salvati perché qui dice che è il prezzo di riscatto se lui è il prezzo di riscatto per ogni individuo ogni individuo è riscattato e quindi salvato ma sappiamo che non è così non può quindi riferirsi a questo prezzo di riscatto per ogni individuo ma per tutti indistintamente qui sta evidenziando per tutti indistintamente se ricordate ci sono diversi brani che evidenziano che il sacrificio di Cristo è specificamente per la Chiesa per esempio nella lettera agli Efesini al capitolo 5 Paolo scrive mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé gloriosa senza macchia senza ruga o altri simili difetti ma santa è irreprensibile qui parla di Cristo che ha dato se stesso per la Chiesa Cristo il sacrificio sostitutivo per la Chiesa in Atti Atti 20-28 qui Paolo parla agli anziani di Efeso 20-28 ascoltate quello che dice agli anziani di Efeso badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale l'ospito santo vi ha costituiti i vescovi per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistata con il proprio sangue mediante il suo sacrificio Cristo ha acquistato la Chiesa e la Chiesa quindi che è riscattata che giunge a salvezza mediante il sacrificio di Cristo Gesù allora ci sono diversi altri brani un altro brano importante mal interpretato è Prima Giovanni e ho predicato su questo brano potete andare ad ascoltare la predicazione su questo brano Prima Giovanni 2 1 figlioni miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il giusto egli è sacrificio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo qui non si sta riferendo ad un individuo sapete perché? perché il sacrificio di Cristo in questo contesto è strettamente legato al fatto che Cristo è il nostro avvocato qui sta parlando dei credenti che per aver comunione con Dio pur peccando l'unica possibilità è che Cristo sia il loro avvocato e Cristo è il loro avvocato grazie al fatto che lui è il loro sacrificio propiziatorio Gesù Cristo è il sacrificio propiziatore per i nostri peccati di conseguenza anche se pecchiamo e confessiamo i peccati certamente ma anche se pecchiamo noi possiamo avere comunione con Dio perché il nostro avvocato è la presenza del Padre e intercede e il suo sacrificio è il fondamento di questa intercessione quando parla quindi di tutto il mondo si dice non per noi soltanto ma per tutti gli altri indistintamente per tutti per tutti coloro che Dio avrebbe poi rigenerato e salvato nella sua grazia e nella sua sovranità ci sono molti altri brani che evidenzino anche ebrei un ultimo brano ebrei 7 ebrei 7 23 l'autore scrive inoltre quelli che sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare egli invece Cristo poiché rimane in eterno a un sacerdozio che non si trasmette perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro Cristo è colui che intercede per noi ed è colui che ha dato la sua vita per noi per riscattarci e di conseguenza intercede per noi quindi questi brani ci mostrano che il sacrificio di Cristo è per tutti indistintamente ma non per ogni individuo perché non tutti sono riscattati Cristo non è morto per i peccati di coloro che andranno all'inferno ma Cristo è morto per riscattare lui è il prezzo di riscatto per tutti e quindi questi tutti si riferisce a tutti gli uomini indistintamente senza distinzione spiegherò meglio questo fra un attimo ma andiamo per un secondo in Marco 10 perché Marco 10 45 ascoltate quello che Gesù dice in Marco 10 45 riguardo il suo sacrificio poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti non dice tutti qui è Paolo che dice tutti perché in quel contesto sta esortando a pregare per tutti e il sacrificio di Cristo è per tutti indistintamente ma qui Gesù disse per molti e sapete questo è strettamente legato a quello che leggiamo in Isaia 53 Isaia 53 versetto 11 e 12 ascoltate quello che dice Isaia dopo il tormento dell'anima sua Gesù Cristo vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza al mio servo il giusto renderà giusti i molti si caricherà l'issesso della loro iniquità perciò io gli darò in premio le moltitudini egli dividerà il bottino con i molti perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli il sacrificio di Cristo è per i molti in prima timoto 2 paolo enfatizza che questo sacrificio è per tutti indistintamente perché perché c'era questa distinzione nella chiesa per quanto riguarda la proclamazione del vangelo escludendo delle persone e paolo esalta pregare per tutti indistintamente ricordando che il sacrificio di Cristo è per tutti indistintamente ovvero è sufficiente per essere il prezzo di riscatto per tutti gli uomini senza nessuna distinzione non c'è nessun peccato dell'uomo che non possa essere coperto dal sangue di Cristo il suo sacrificio ha un valore infinito ha un valore infinito senza limiti ecco perché non escludere nessuno dalla preghiera il vangelo è per tutti questo sacrificio che ha un valore infinito ecco perché pregare per la salvezza di tutti indistintamente ecco per quale ragione Dio dimostra il suo desiderio di salvare tutti gli uomini senza distinzione e lo dimostra come mediante il sacrificio di Cristo che ha un valore illimitato per quanto concerne la potenza del valore è illimitato per tutti senza distinzione Paolo era la prova di ciò era la prova di ciò lui era un persecutore un bestemmiatore un violento perseguitava la chiesa Dio ha salvato Paolo la sua grazia è sorbondante forse noi avremmo detto no no lui no ricordate Anania in Atti 9 quando Dio lo chiama Gesù lo chiama ad andare da Paolo a parlargli aveva paura era un persecutore noi avremmo detto no lui no forse sì mio zio che ha solo mentito sì ma l'omicida no ma Dio salva anche l'omicida il sacrificio di Cristo è illimitato nella sua potenza nel suo valore questo è quello che Paolo sta dicendo prezzo di riscatto per tutti non escludete nessuno pregate per tutti questo valore del sacrificio di Cristo inestimabile sufficiente per coprire qualsiasi peccato anche quelli di Nerone sì anche quelli di Nerone o di qualsiasi altro pluriomicida gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi questo è il messaggio questa è l'enfasi di Paolo l'enfasi qui è sulla universalità del Vangelo Paolo prosegue prosegue dice questa è la testimonianza resa a suo tempo questa è la testimonianza resa a suo tempo qui si riferisce al sacrificio di Cristo lui che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti questa testimonianza che Dio ha reso a suo tempo ovvero secondo i suoi tempi nel suo piano Galati 4 4 Dio nella sua volontà nel suo piano sovrano ha testimoniato del suo amore del suo desiderio di salvare tutti indistintamente attraverso questo sacrificio di Cristo questa testimonianza il Vangelo offerto quindi a tutti indistintamente a tutti senza limiti e poi c'è un'altra ragione abbiamo visto due ragioni Dio desidera la salvezza di tutti indistintamente Gesù Cristo è il prezzo di riscatto per tutti indistintamente e ora c'è una terza ragione una terza ragione il ministero di Paolo il ministero stesso di Paolo qui dice e della quale la testimonianza io fui costituito predicatore e apostolo qui dice che Paolo fu costituito da Dio predicatore e apostolo per proclamare questa testimonianza ovvero Cristo Gesù questo prezzo di riscatto per tutti indistintamente Paolo costituito da Dio predicatore questo termine significa araldo in quel tempo non c'erano i mass media ma c'erano gli araldi che annunciavano per ordine un messaggio pubblicamente lui annunciò pubblicamente il Vangelo di Cristo non solo lui era un apostolo ovvero un messaggero inviato da Cristo stesso e poi aggiunge letteralmente è insegnante degli stranieri nella fede e nella verità lui era l'insegnante lui chiamato a istruire gli stranieri gentili nella fede e nella verità ovvero nel Vangelo lui era stato chiamato a istruire gli stranieri il Vangelo non è quindi un messaggio destinato solo ad alcuni ma a tutti indistintamente lui infatti era stato chiamato a proclamare anche agli stranieri che erano esclusi dai giudei legalisti non pregare quindi per tutti gli uomini significherebbe annullare il ministero di Paolo stesso chiamato da Dio a predicare agli stranieri significava annullare la proclamazione del Vangelo a tutti Paolo dice che è stato costituito predicatore apostolo e insegnante dei gentili ecco perché pregare per tutti gli uomini perché questa preghiera è coerente con quello che è il messaggio del Vangelo per tutti indistintamente ed è coerente in questo caso con quello che è il ministero di Paolo nel proclamare il Vangelo anche agli stranieri e aggiunge poi io dico il vero non mento per enfatizzare la chiamata di Dio per enfatizzare che era per la chiamata di Dio che lui ha fatto ciò e quindi pregate per tutti indistintamente perché io Paolo dice sono stato chiamato a predicare anche agli stranieri non escludete nessuno questa è la volontà di Dio proclamare anche agli stranieri e con l'enfasi quindi sull'universalità del Vangelo confermata anche qui dal ministero di Paolo apostolo dei gentili insegnante dei gentili ecco quindi il Vangelo proclamato a tutti questa chiamata evangelistica è universale e di conseguenza la nostra preghiera deve essere universale per tutti gli uomini indistintamente in questi sette versetti Paolo esorta la chiesa esorta Timotio per istruire la chiesa a pregare per i perduti un'importante esortazione per noi pregare per i perduti qui ci mostra prima cosa la priorità di pregare per tutti gli uomini la priorità di pregare per tutti gli uomini qui sta enfatizzando tutti abbiamo visto tutti indistintamente anche i re anche quelli che sono in naturalità non escludete nessuno fratelli questo è quello che potremmo fare escludere delle persone per la loro forse ingiustizia malvagità o le autorità stesse ma qui ci esorta pregare per tutti indistintamente per tutti e pregare affinché ci sia la libertà che noi oggi abbiamo per grazia di Dio di poter vivere Cristo come Chiesa e poter proclamare il margello esorta quindi a pregare per tutti gli uomini indistintamente e poi ci mostra le ragioni perché perché questa salvezza perché questa preghiera per la salvezza di tutti gli uomini per quale ragione prima ragione Dio desidera la salvezza di tutti gli uomini indistintamente Paolo come ho detto più volte era un esempio di come Dio salva tutti indistintamente lui era un bestemmiatore un persecutore e un violento ma misericordia gli è stata usata e la grazia del Signore nostro dice è sovrabbondata è sovrabbondata pregare per tutti gli uomini indistintamente perché Dio è misericordioso Dio non fa distinzione in base ai peccati commessi Dio è misericordioso come Pietro disse Dio è il Signore di tutti di tutti di tutti gli uomini Dio non fa quindi distinzione in base ai peccati in base allo stato sociale in base al passato la grazia di Dio è sovrabbondante Dio certo è sovrano nella salvezza ma questa salvezza non dipende dalla sapienza abbiamo visto in prima Corinzi non dipende dallo stato sociale di una persona non dipende da quanti peccati ha commesso no la grazia di Dio è sovrabbondante non ha limiti seconda ragione la morte di Cristo è per tutti indistintamente la morte di Cristo è per tutti indistintamente c'è un solo Dio un solo mediatore e un sacrificio il sacrificio di Cristo questo prezzo di riscatto questo prezzo pagato per salvare dice tutti non si riferisce a ogni individuo ma tutti indistintamente il valore del sacrificio di Cristo è infinito sufficiente per coprire peccati di qualsiasi persona e qualsiasi peccato il Vangelo di Cristo quindi non è un messaggio destinato a pochi ad alcuni ma è un messaggio universale infatti c'è un solo Dio e un solo mediatore Cristo Gesù uomo ma non solo Paolo stesso il suo ministero motivava i credenti a pregare per tutti lui chiamato a proclamare il Vangelo agli stranieri ai gentili pregate per tutti senza distensione la sua chiamata da Dio a predicare agli stranieri e alla conferma che il Vangelo è per tutti va proclamato a tutti ed ecco perché pregare è per tutti pregare quindi per la salvezza di tutti gli uomini senza escludere nessuno perché la chiamata evangelistica è universale ecco quindi la nostra responsabilità come chiesa qui dice prima di ogni altra cosa questa è la nostra responsabilità di pregare di pregare per gli uomini per tutti senza nessuna distinzione la grazia di Dio è sovrabbondante sorpassa il peccato di qualsiasi uomo quindi non limitiamo non limitiamo la potenza del Vangelo pregando in modo esclusivo o evangelizzando in modo esclusivo dicendo forse quella passata non è predisposta forse l'altra si è predisposta è errato questo la grazia di Dio è sovrabbondante non limitiamo il Vangelo la potenza del Vangelo pregando in modo esclusivo perché Dio non ha riguardi personali di conseguenza preghiamo per tutti gli uomini indistintamente ed evangelizziamo e per terminare Paolo ha ricordato che cosa che Dio è misericordioso Dio è misericordioso la sua grazia è sovrabbondante e al versetto 15 dice certa è questa affermazione degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo lui bestemmiatore persecutore violento questo brano quindi ci incoraggia ci esorta e ci ammonisce se abbiamo questa tendenza di pregare escludendo dicendo quella persona non giugnerà mai a Cristo quella persona non è predisposta o altre cose Paolo ci esorta e ci incoraggia invece a pregare per tutti indistintamente pregare per tutti indistintamente perché il Vangelo è un messaggio che è destinato a tutti indistintamente un Vangelo che va proclamato a tutti indistintamente grazie a tutti Grazie a tutti